Di Latteri non lo espelliamo per rispetto di tante cose, per la verità. Ho saputo che oggi ha votato con la maggioranza e neppure col terzo polo con cui ha votato il Movimento per l'autonomia e ha scelto di stare il Movimento per l'autonomia a proposito della mozione sulla Libia. Ha votato la mozione PDL-Lega, c'era una mozione al terzo polo, i nostri deputati, pochi che siano, hanno votato. Lui non perde occasione per votare con PDL e Lega. In effetti è nel PDL e continua a pontificare con lettere aperte, proposte di governo istituzionale come se fosse un parlamentare dell'MPA. Ripeto, non lo si mette fuori perché ha un'età, ha una tradizione e tante altre cose. Farebbe bene a compiere un gesto di coerenza. Il governo che propone, per carità, dopo questa premessa posso dire che può avere teoricamente un senso, ma ci sono le condizioni perché i capigruppo si mettono insieme a fare gli assessori in un'aggiunta di tutti. Realisticamente questo non è pensabile, non è immaginabile. C'è un Partito Democratico che pur afflitto da alcune quinte colonne dei governi precedenti al suo interno, fa una proposta politica verso un governo politico. Poi quelle quinte colonne, gli uomini di Firrarello e del PD che stanno dentro il PD l'hanno interpretata e presentata come la fine di questa esperienza. Si stacca la spina, il governo va a casa, non vedono l'ora ovviamente di fare tornare in campo i loro amici, quelli con i quali sotto banco e clandestinamente, non so quanto in maniera trasparente, tutt'altro, inciuciavano felici. Devo dire invece questa ipotesi e questa proposta che è venuta fuori e di cui si è tante volte parlato anche in passato, è una ipotesi che si può prendere in considerazione. Ho parlato che un governo politico è il governo delle elezioni, e il governo di quanti sottoscrivono un patto che li vede insieme nel governo e poi chiaramente li vede insieme affrontare delle elezioni nelle quali chiaramente ci si gioca tutti gli argomenti e i risultati perché queste elezioni vengano vinte. Certo, con degli alleati nei quali partiti non emerga ogni settimana qualcuno che magari poi vuole il referendum, vuole le assemblee, i direttivi, gli esecutivi, le riunioni di gruppo per mettere in discussione domani quello che magari a maggioranza si decide oggi, perché questo è un gioco al massacro che naturalmente fa, deliberatamente da parte di chi lo porta avanti, non certamente, involontariamente, fa il gioco di un vecchio sporco sistema che stiamo cercando di aggiustare tra mille difficoltà e tra un milione di ostacoli.